Teoricamente dovrebbe entrare in vigore il 10 di gennaio per evitare che ci siano contestazioni perché alla fine della fiera ieri sono usciti in telegiornale dappertutto per cui per evitare contestazione con la popolazione automaticamente le ho messe a 0,75. Nella sua farmacia sta già praticando il prezzo calmierato deciso con il governo per le mascherine FFP2. Maurizio Giacomazzi, segretario nazionale di Farmacie Unite che ricorda però a tutti per fare chiarezza che l'adesione è e resta volontaria. Questo è volontario, non è che tutte le farmacie devono applicare lo 0,75, sono solo quelle che aderiranno all'accordo firmato, le tre sigle, Farmacie Unite, Assofarm e Federfarma con il governo. Per cui le farmacie che non aderiscono sono libere di vendere le mascherine al prezzo che vogliono. Un accordo accettato ma mal digerito da una categoria impegnata su più fronti. Siamo in prima fila e per una questione sociale va benissimo però oltre non si può andare perché non si può più chiedere di più a quello che sono le farmacie perché adesso in questo momento stanno chiedendo anche troppo perché abbiamo le code fuori per quanto riguarda i tamponi. Le mascherine siamo scesi a 0,75. Direi che se le cose fossero state corrette il governo doveva chiamerlo dalla fonte. Per ora problemi di approvvigionamento non ce ne sono ma il nuovo prezzo porterà la catena di distribuzione a subire dei contraccolpi. La responsabilità del farmacista è quella di garantire sì il prezzo ma soprattutto la sicurezza del prodotto. Dobbiamo garantire che il prodotto che stiamo dando è una mascherina a 5 veli, una mascherina certificata, certo a 0,75. Non so cosa si possa trovare fuori perché alla fine della fiera ho capito che tutti stanno vendendo mascherine come erano le famose chirurgiche che dopo la fine abbiamo scoperto che c'erano delle chirurgiche che non facevano l'effetto che dovevano fare. Per cui bisogna stare molto attenti a quello che si scende perché è facile scendere ma è difficile trovare il prodotto che garantisca. In questo momento abbiamo bisogno di tutelare i ragazzi. Quelli che dal giorno 10 o 7 inizieranno ad andare in autobus a scuola.